Occhio in aria, Raringer odierna, è una bomba in mezzo, e la palla rimane a portavolta, voglio, traversa, non ci credo, mango, liscio, destro, di contardo, esplode l'avion, 3 a 1 Corinthians. Palla dietro l'aria, si gira Ippolito col destro, eccolo, no, è Pugliese, Pugliese, che realizza il 5 a 2. Scotto riparte, cerca la bomba e trova una magia, Simone Scotto, 2 a 1. Varriale, arriva Millo, palla che passa, sponda destro, e questo è un Nizza Show, 3 a 1, spettacolo. Arnese, ancora lui, ancora Arnese con un destro, meraviglioso, e ora siamo 6 a 2. Cardellini, anzi, Ippolito, si gira, Ippolito, c'è cà, spazio per il destro, guadagnolo, parte il sinistro di Ippolito, e spacca la porta, ignorato il compagno, realizza un Eurogold. Matteaprisco non riesce a controllarla, Telese, l'aggancio, Telese, pallonetto, e il pescele, scatenato, 6 a 1, bene vengo. Abrea controllo, tiro, rete, Abrea, ancora il tanche, 2 a 0, Abrea è impazzito, Santos, più 2. Tadale, Silvestro, 3 a 1, Beninato, Beninato, 4 a 1. Ipper della sfera, parte la Samp, Signoriello, col sinistro, in buca d'angolo, 3 a 0, Samp, Signoriello. Mosella, dentro, De Palma, sterza, De Palma, destro, rete, ancora, De Palma, ancora Samp. Bravo, Giugno! E allora, Signoriello, che cerca al sinistro! E' tuo valandolino! Ancora, Signoriello! Mamma mia, non si fermano! Signoriello, si gira, prova il numero, Signoriello, Boffella! Eccolo! Iva Signoriello, 4 a 1, Samp, gol meraviglioso! Sentite un calcio, De Simone! Cerca dentro! In buca d'angolo, De Simone dal nulla, 2 a 0. E' più giallo frattini! E allora, Rosso! D'Alessio, in rovesciata! C'è un gol meraviglioso! Di danni d'Alessio e del Mignotti, 5 a 1. La bronza è sempre più vicina! D'Alessio e del Mignotti, 5 a 1, Samp, gol meraviglioso! D'Alessio e del Mignotti, 5 a 1, Samp, gol meraviglioso! D'Alessio e del Mignotti, 5 a 1, Samp.